Oggi sono particolarmente soddisfatto. In primo luogo perché ho sistemato le luci nello studio, e già questo è un gran bel punto a mio favore. In secondo luogo perché mi è stata data l'opportunità di collaborare con un'azienda che a me piace molto. Sto parlando di SmallRig, un'azienda che a me è sempre piaciuta tanto perché secondo me crea veramente degli ottimi complementi per tutto quello che è il mio parco macchine fotografiche, videocamere e ottiche. Per chi mi conosce sapete benissimo che io utilizzo sempre la cage di SmallRig per la Canon EOS R7 che uso per registrare la maggior parte dei miei video, di cui ho anche fatto un unboxing e recensione proprio qui sul canale, ve lo linko in descrizione. Ma oggi non siamo qui per parlare di cage, siamo qui per parlare di un nuovo prodotto che sta venendo lanciato adesso, quindi sono tra i primi ad avere la possibilità di testarlo e ve ne parlo nel video di oggi. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare e anche oggi vi parlo di strumentazione fotografica. In particolare andremo a fare un unboxing e poi vi darò le mie impressioni su un prodotto che mi è stato mandato gentilmente dal SmallRig affinché io potessi testarlo e parlarvene. Prima di proseguire però vi ricordo che se questo genere di video vi piacciono, vi interessano, io vi invito a iscrivervi subito cliccando il bottone qui sotto e se attivate anche la campanella non rischiate di perdervi le mie risposte in forma di video breve a tutti i vostri commenti e varie domande che mi potrete fare riguardo a questo prodotto e non solo. Andiamo a incominciare. Vado oggi a presentarvi questa piccola amica turchina che si chiama LPE6NH USB-C. Fondamentalmente si tratta di una comune batteria che va a servire tutte le nostre vecchie e nuove fotocamere Canon con una piccola differenza fondamentale. Questa batteria ha la ricarica USB. Ebbene sì, avete capito bene, questa è una batteria che ci consente di andare in giro senza il caricabatterie perché può essere ricaricata semplicemente tramite un normalissimo cavetto USB-C. Quindi molto molto comodo, ottima idea. Andiamo a fare l'unboxing e andiamo a vedere che cosa c'è dentro questa scatola. Ora come ben sapete normalmente io faccio degli unboxing finti però in questo caso voglio farvi vedere veramente perché il packaging secondo me è molto caruccio. La scatola come potete vedere è addirittura brandizzata, c'è un'etichetta e una stampigliatura con il logo su tutti i lati quindi devo dire che è anche abbastanza carina. All'interno troviamo il libretto di istruzioni che non credo leggeremo. Abbiamo ovviamente il cavetto di ricarica e abbiamo perfettamente in cielo fanata la nostra batteria che adesso andiamo a tirare fuori. Molto bene, il cuore dell'imballaggio fondamentalmente è questo. Come potete vedere è una comune batteria per fotocamera Canon di fascia alta direi perché questa batteria è perfettamente comparabile con la batteria originale di Canon. Sono sostanzialmente uguali, hanno la stessa forma e più o meno lo stesso peso. Anche se come potete vedere il colore è diverso. È diverso per un'ottima ragione secondo me perché nel caso della batteria di small rig farla più chiara ci permette di vedere l'input, il forellino su cui noi andiamo a connettere il nostro cavetto USB-C per la ricarica. Quindi è una buona cosa che sia di un colore più chiaro del nero perché così individuiamo immediatamente dov'è che va collegata la corrente. Se andiamo a esaminare il retro ci rendiamo conto che è sostanzialmente identica alla sua sorellina nera quindi abbiamo esattamente la stessa forma, le stesse dimensioni. Qui c'è scritto small rig power ADC for Canon LP-E6NH quindi è esattamente la sostituta di questa. Andiamo a vedere un po' di caratteristiche però di questa batteria per capire che cos'è che la rende particolare. Come potete vedere abbiamo a che fare con una batteria ricaricabile tramite USB-C quindi un sistema abbastanza innovativo che io sappia nessun altro ha fatto una cosa del genere quindi è possibile che small rig sia la prima a sostanzialmente brevettare questo tipo di ricarica per la sua batteria. Il tempo totale di ricarica della batteria è di 2,5 ore quindi ha un tempo di ricarica anche abbastanza rapido. Se ricordo bene ho batterie che ci mettono di più quindi questa non è niente male. Sempre considerando che non abbiamo un caricabatterie ma che la corrente va direttamente dentro nella batteria quindi non abbiamo una base a supporto ma ricarichiamo direttamente la batteria. Ora vediamo quanto dura questa batteria. Questo è molto interessante perché qui abbiamo una stima di un tempo di registrazione per il video di ben tre ore. Tre ore ragazzi è tanto. Attualmente con la batteria normale io non credo di arrivarci a tre ore. Ho fatto un test una volta e arrivavo non vorrei dire una cavolata. Registrando in 4k a 24 frame al secondo secondo me tirava l'ora e mezza ma tre ore proprio no. Per quanto riguarda il numero di scatti qui c'è una stima di 780 scatti. Anche questo è un numero abbastanza alto. Sono tanti. Se ricordo correttamente la stessa fotocamera con la batteria originale Canon arriva intorno ai 700-720 quindi non è tantissimo in più però sembra che questa batteria tenga un pochino meglio dell'originale. Testata su Canon EOS R7 quindi esattamente quella che sto usando io adesso. Quindi effettivamente basandoci su questi dati sembra che questa batteria abbia un'ottima performance. Ovviamente io vi parlo del modello per Canon ma vi segnalo che esistono anche il modello per Sony Alpha che è stato testato sulla Sony Alpha 7C. Esiste anche il modello per Fuji che è stato testato sulla X-T4. La particolarità di questa batteria come già detto è la possibilità di ricaricarla semplicemente via USB-C quindi non abbiamo più bisogno di portarci dietro un caricabatterie dedicato che ci porta via tanto spazio nello zaino e che pesa anche perché comunque ha un peso anche se non è tanto. Con questa miglioria noi possiamo andare in giro semplicemente con lo stesso cavetto con cui ricaricheremo il nostro laptop o il nostro telefono cellulare e siamo in grado di ricaricare la nostra batteria senza nessunissimo problema con un tempo di ricarica che potrebbe addirittura essere più rapido di quello del nostro telefono cellulare. Altre particolarità da segnalare questa batteria sembra essere schermata molto bene infatti ha un sistema di protezione del circuito un sistema di protezione della sovraccarica high voltage protection e high current protection non so cosa siano onestamente perché non sono un elettricista non riesco ad andare nel dettaglio a capire le componenti esattamente che cosa fanno però tutte queste indicazioni che la ditta ci fornisce ci fa capire che c'è un grande livello di attenzione alla componentistica per fare sì che questa batteria sia performante ma anche sicura. Una cosa che sono molto contento di leggere è che c'è anche un sistema di controllo del surriscaldamento quindi quello che ho letto nella brochure che questa batteria non dovrebbe dare falsi contatti non dovrebbe dare problemi di surriscaldamento e non dovrebbe nemmeno dare problemi di scarica completa quindi nel momento in cui la batteria va a essere completamente scaricata c'è un qualche tipo di meccanismo che la protegge non la fa andare completamente in blocco. Modelli compatibili allora ragazzi questa è un po lunga ve li leggo tutti direttamente dal sito vi avverto che sono tanti però ci tengo a essere preciso quindi vi riporto esattamente le informazioni che trovo ovviamente questa batteria è compatibile con tutti i modelli che utilizzano la stessa batteria andiamo a vederli insieme così ci rendiamo conto di quanti sono e ve li leggo in diretta abbiamo Canon EOS 5D, 5D Mark 2, Mark 3, Mark 4, 6D, 6D Mark 2, 7D, 7D Mark 2 e poi abbiamo tutti i vecchi modelli quindi EOS 60D, 70, 80, 90, XC10, XC15, EOS 5DS, EOS 5DR, EOS R, EOS R5, EOS R6, EOS R5C, EOS R7, quella che stiamo usando adesso, EOS R6 Mark 2 quindi abbiamo un grandissimo numero di fotocamere compatibili quindi questa batteria qui praticamente è compatibile quasi con tutte le mie macchine quasi tutte ne ho solo due che non sono compatibili con questa macchina che sono la 550D e la 700D sono le uniche fotocamere che ho che non sono compatibili con questa batteria per il resto la posso usare sul mio intero parco macchine perché per fortuna per grazia divina casa Canon ha mantenuto la stessa batteria su tutti quanti i modelli ora è possibile che fra un po' prossima generazione di mirrorless probabilmente questa batteria verrà cambiata perché ci vorrà una batteria più potente, è possibile però al momento questa batteria è compatibile con tutte le fotocamere Canon di fascia alta o media in circolazione sul mercato. Una cosa interessante che non ho mai valutato io personalmente ma credo nemmeno voi da casa è che questa batteria può essere addirittura ricaricata via power bank quindi se noi abbiamo il power bank del nostro telefono o di qualcosa, se abbiamo un power bank qualsiasi possiamo ricaricare questa batteria anche mentre siamo in giro quindi se stiamo girando e facendo foto, se stiamo facendo avifauna, se stiamo facendo esplorazione, viaggi, vacanze noi possiamo tirarla fuori e attaccarla a un power bank e quindi ricaricarla nei tempi morti ricaricarla mentre siamo in giro e mentre non la stiamo usando. Una cosa che vi segnalo, credo che non sia possibile ricaricarla mentre è in uso quindi mentre è all'interno della fotocamera non è possibile ricaricarla perché come avete già visto l'input per collegarla alla corrente è sullo stesso lato dei circuiti quindi è nella parte che si infila nella fotocamera quindi non è possibile ricaricarla da sotto. Vedo riportato sul sito di SmallRig che non è possibile ricaricare la batteria durante l'utilizzo quindi mi domando se sia possibile ricaricarla con il cavetto USB-C connesso alla fotocamera mentre è in uso questa è una cosa che mi domando, non so se sia possibile, è possibile di sì però riportato sul sito c'è scritto che non si può ricaricare mentre è in uso quindi su questa cosa non vi posso dare garanzia. Rimane ad ogni modo secondo me un ottimo complemento per il nostro corredo posto che se abbiamo una fotocamera Canon sicuramente abbiamo una batteria originale con noi perché viene sempre fornita quando non ti vendono la fotocamera senza la batteria quindi questo non può essere una prima batteria, può essere solo un'aggiunta però secondo me è un'ottima aggiunta perché per quanto riguarda le performance tendenzialmente va a performare praticamente meglio dell'originale e ha un prezzo di lancio che è molto interessante. Ora andiamo a vedere che cos'altro c'era dentro nella scatola perché non vi ho ancora fatto vedere tutto. Qui abbiamo il suo cavetto, il suo cavetto che viene con una fascetta che serve per rifarlo su cavetto che devo dire non è lungo, non è particolarmente lungo però va bene così perché io non amo i cavi particolarmente lunghi io di fatto li tengo sempre fascettati e li tengo vicini alla presa perché non voglio che vadano in giro quindi a me va benissimo che sia corto e vi segnalo una cosa però è un cavetto bello spesso quindi non sono quei cavetti del cavolo da due soldi che fanno la ricarica lenta questo qui è un cavetto bello spesso e quindi secondo me ci garantisce una ricarica bella veloce io ovviamente consiglio di utilizzare il suo cavetto quando andiamo a fare la ricarica di non utilizzare cavetti di altri brand, di altre marche perché insomma questo qui è il suo quindi è molto probabile che abbia delle caratteristiche che lo rendono più adatto alla ricarica di questo tipo di batteria fra l'altro vi segnalo anche che la sua scatola diventa anche una travel case molto molto comoda perché noi qui possiamo stoccare il tutto vedete ci sta perfettamente occupa pochissimo spazio noi la richiudiamo e diventa una travel case secondo me anche molto comoda perché nonostante sia di cartone quindi non è indistruttibile non è a prova d'acqua però è comoda è un buon cartone è robusto quindi questa qui finisce direttamente dentro nello zaino fotografico così com'è non occupa tanto spazio se vogliamo risparmiare ulteriormente spazio mettiamo batteria e cavetto liberi e non dobbiamo più nemmeno portarci dietro il vecchio caricabatterie con il filo e il filo del vecchio caricabatterie quello sì che era grosso e che occupava spazio e che era sempre in giro questo qui è un filo molto più piccolo molto più discreto che ci dà meno fastidio che possiamo collegare a un portatile lasciarlo di fianco al portatile e non lo vediamo nemmeno più perché è piccolo non dà nessunissimo fastidio come già detto all'inizio del video io sono molto molto contento di questa collaborazione sono molto contento che SmallRig mi abbia mandato sostanzialmente una collaborazione gifted quindi mi hanno regalato questa batteria così ho avuto modo di testarla per poi presentarvela devo dire che le performance mi sono comunque piaciute quindi questa batteria visto che non è di nessuna fotocamera cioè io ho tutte le fotocamere con la loro batteria questa batteria da adesso in poi diventa un complemento fisso nel mio zaino nel senso che io avrò sempre le fotocamere con la loro batteria ma questa sarà sempre nella mia borsa qualunque cosa io faccia perché a questo punto questa qui diventa una batteria di scorta che è più performante di quella che sto utilizzando quindi nel momento in cui io sono fuori non mi devo più preoccupare di niente mirrorless non mirrorless anche se la durata della batteria della mirrorless è inferiore io con questa nello zaino nell'esatto momento in cui ho drenato la mia batteria originale tiro via la batteria originale picchio dentro questa e sono tranquillo che mi durerà ancora di più di quello che ho già fatto quindi è una sicurezza in più che mi porto dietro di cui sono molto contento e per cui ringrazio SmallRig per l'opportunità vi farò un nuovo video per raccontarvi come va l'esperienza tra un qualche tempo anche se sono convinto che non ci sarà granché da segnalare perché abbiamo una performance lievemente migliore una ricarica più facile e più comoda e un prezzo di lancio che è più basso di quello della batteria originale quindi rimane secondo me assolutamente vantaggiosa vi lascio il link in descrizione dove potete trovare sia la descrizione del prodotto sul sito di SmallRig sia la pagina del prodotto su Amazon dove potete eventualmente decidere di visionare e eventualmente ordinare il prodotto ovviamente me la sento di consigliarlo anche nel caso di una sostituzione nel caso in cui la vostra batteria magari di una fotocamera non nuovissima come una 80D, una 60D nel caso di una batteria vecchia quindi magari ha esaurito il suo ciclo vitale non ricarica più bene non tiene più la carica come una volta questa è una batteria che può essere un ottimo sostituto perché comunque è una batteria di concezione più moderna e quindi anche su un modello vecchio secondo me può offrire delle ottime performance anzi delle performance migliori essendo da un lato una batteria nuova quindi col 100% di potere di ricarica in secondo luogo è una batteria pensata per sostenere degli sforzi pensata per lavorare su delle mirrorless prevalentemente quindi se la usiamo su delle mirrorless ci dà una buona performance se la usiamo su una macchina vecchia secondo me va a migliorare le performance perché è una batteria pensata per essere maltrattata proprio che dire amici io non mi dilungo oltre vi lascio come sempre spazio nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate fatemi sapere che batterie usate originali o di terze parti se avete mai avuto brutte esperienze con batterie di terze parti o se avete avuto brutte esperienze con batterie originali perché accidenti capita anche questo ne ho viste di batterie originali che facevano cilecca vi ricordo per tutti quelli che lasceranno un commento che io sono solito rispondere ai vostri commenti con degli shorts quindi con dei contenuti brevi verticali per cui vi consiglio di iscrivervi adesso al canale così se commentate non rischiate di perdervi eventualmente la mia risposta io come sempre vi ringrazio di aver passato un po' del vostro tempo con me e io e SmallRig vi diamo appuntamento al prossimo video ciao 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 Grazie a tutti